ciao a tutti e bentornati ancora una volta su indie gameplay ita oggi sesto tutorial di archage c'eravamo lasciati un paio di episodi fa ad aver ottenuto la proficiency di alchemy a mille scusate a diecimila eccola qui praticamente ora proseguiremo con la serie di quest e andremo a fare quello che è il carretto avete visto nell'episodio precedente due episodi fa come fare l'asino quindi trasportare le merci per le vostre trade avete imparato che cosa sono le trade oggi invece proseguiamo e andiamo a fare il carretto il carretto ci consentirà di avere ancora più slot per trasportare le nostre le merci delle nostre trade dobbiamo andare dove c'è la quest numero 4 ok dobbiamo fare una solar glow alla riga l'alchemy table praticamente ora ci fa fare una pozione solar glow ci fa fare una pozione che è questa per cui è richiesta la proficiency di alchemia a diecimila quindi non avessimo fatto questa serie di quest questa pozione che cura comunque 1779 istantaneamente di vita non la poter non la potremmo fare quindi la craftiamo immediatamente abbiamo già i materiali li abbiamo ottenuti dalle quest precedenti è importante seguire questa guida perché il carretto diciamo che ci sono delle cose da sapere prima di farlo allora ok andiamo a consigliare la quest ci veniamo pagati e ora iniziamo il percorso beh ora la quest ci dice di andare a usare la veiled flame la veiled flame bene una la beviamo e poi usiamo una solar glow quindi la veiled che abbiamo appena bevuto ci curava un tot di vita ci beviamo anche l'altra insomma ci ha fatto imparare come si bevono le pozioni generalmente basta alzare la boccetta inclinarla insomma e bere ok allora ora dobbiamo craftare 50 solar glow potion usando una regala alchemy table ok quindi continuiamo la solar glow perché questo perché ci regaleranno anche un tavolo da crafting da poter mettere direttamente a casa nostra quando avremo una casa per il momento poi ce lo terremo ce lo daremo in banca dobbiamo farne altre 3 no scusate 5 si 3 perché ne crafta 10 alla volta andiamo a farne tanto abbiamo otto massimo come materiali quindi attendiamo che finisca di carta le craftate ora dobbiamo consegnarle a un luogo più avanti quindi niente ci mettiamo in marcia sul nostro cinghialotto e ci troveremo a destinazione cioè esattamente qua sotto in quest'altro villaggio questa è un'area abbastanza particolare abbastanza strana perché è piena di voraggi piena di altopiani quindi bisogna un attimino studiare il percorso ideale per raggiungere la zona ora intanto abilitiamo la corsa bisogna fare attenzione qua perché la zona è di livello 40 noi siamo di livello 40 quindi il rischio che ci uccidano è non è assolutamente remoto ovviamente moriamo perdiamo semplicemente tempo non c'è altro che si va a perdere nel gioco sono andato qua girando verso destra perché dovrei passare oltre questa zona in modo semplice infatti il villaggio eccolo la quindi a questo punto ci lanciamo direttamente dall'altro dall'altra parte ecco qua consegniamo la quest e prendiamo la successiva la successiva ci porta a fare salvage old screw dalle pile di component qua poco più avanti quindi dobbiamo andare qui e recuperare quelle cose molto molto semplice bisogna trovare fondamentale trovare l'ingresso di questa tenda e andiamo a recuperare queste cose 5 dobbiamo prenderne sono veramente semplici come questa ma ci danno tanto e l'importante è sapere dove iniziare la quest e che cosa si sta andando a fare ovviamente viene semplice quando lo si fa su un secondo personaggio il primo invece una una guida di questo tipo può essere utile perfetto ora dobbiamo craftare un train nel toolbox al machining bench che praticamente è questa allora trainer toolbox praticamente dobbiamo usare 100 lingotti 100 lingotti ora io non ricordo se i 100 lingotti mi erano stati già dati in precedenti quest in questo caso però vado a guardare in banca e non ne ho quindi in questo caso dovremmo mettere mano il portofolio quindi sembra importante avere qualche soldo da parte andiamo all'asta e prendiamo iron ingot ne compro 100 costano una quarantina di gold ma non non escluderei neanche che le avessi già dall'inizio però craftiamo il train toolbox perfetto e lo mostriamo a momon al meccanico ok completato questo ci daranno le indicazioni su come fare il carretto quindi quest completata dobbiamo andare a fire talon fire talon se non sappiamo dov'è clicchiamo qua map e scopriremo che dobbiamo andare a wiscone savanna noi siamo al rock boron basin abbiamo la fortuna di avere dei degli eventi qua festival period ma al momento ci frega poco ok bisogna viaggiare assolutamente verso sud e andare di qua quindi a questo punto io prendo il mio cigale e mi cerco la strada per scendere abbastanza velocemente allora sarebbe importante questa strada qua no perché mi porta qui bisogna andare giù dritti per dritti di qua e quindi direi che possiamo anche fare una cosa così allora intanto attiviamo la corsa e iniziamo a prendere la via che potrebbe essere quella più giusta ed eccoci arrivati è stato abbastanza difficoltoso perché il mio livello non è altissimo infatti vi consiglierei di fare questa missione magari intorno a livello 45 per stare un po più tranquilli però si fa tranquillamente e ho incontrato anche dei giocatori rossi non so se poi li avrete notati nel percorso nel video però fortunatamente c'è il festival quindi come vi dicevo prima non si può fare pvp quindi mi hanno lasciato in pace se vi uccidono non succede nulla insomma perdete tempo dovete ripartire e rimettervi in viaggio questa è una bellissima zona perché qua in alto si vedeva proprio tutta la valle una desolazione fantastica quella di questa savana comunque bando alle ciance siamo arrivati a consegnare la quest perfetto ora dice che ci sono molti tipi di veicoli il più la lezione base dovrebbe essere il farm cart devo parlare al mercante al mercante che è 40 metri più in là adesso qua ci sono dei glitch fastidiosi ma va bene parliamo al mercante praticamente perfetto dobbiamo inviare intanto sti qui non si vogliono parlare usano me come tramite comunque va bene parliamo tra l'altro queste vedete sono le razze le altre le io sono nuyan le razze della dell'ovest queste sono le razze dell'est va bene abbiamo fatto questo dobbiamo parlare l'alchimia merchant in fire snarl quindi andremo a visitare un'altra città dopo la prima qua che ci siamo passati a fianco andiamo a vedere la seconda grande città ce ne sono tre qua una due e tre ok quindi ci rimettiamo in marcia vedete abbiamo completato le quest finora a parte quella quest dove dovevamo acquistare cioè abbiamo dovuto comprare i lingotti che voi potete farveli ovviamente anche minando poi magari faremo anche un video tutorial sulle proficiency nello specifico e a parte quella cosa che ho dovuto spendere 40 gold che iniziando magari inizialmente sono tanti magari facendo qualche quest o qualche avventura insomma li guadagnate e prima di lasciarvi vi dico anche al viaggio vi dico anche che se seguite le quest verdi quelle della storia infatti all'inizio dovreste fare quelle insieme ad altre gialle raggiungete il livello 30 in un attimo e poi continuando a giocare a craftare magari facendo qualche soldo il livello 40 50 lo raggiungete tranquillamente in tempi brevi quindi non non ci sono grossi problemi per dire in due ore ho raggiunto livello 30 con questo personaggio quindi con livello 30 inizialmente tutte queste quest di cui ho fatto il tutorial quindi vi rimando se non li avete ancora visti i precedenti video vi spiegano le basi del gioco le basi diciamo delle quest verdi che vi danno l'equipaggiamento base per cominciare e per muovervi nel mondo di gioco ora attendiamo la fine del viaggio e ci ritroviamo direttamente a fare snarl ok siamo arrivati fire snarl consegniamo quello che avevamo e ora abbiamo una nuova quest dobbiamo collezionare solar glow ok dobbiamo craftare come abbiamo fatto prima dei solar glow direttamente dalla rega l'alchemy table come abbiamo fatto prima in pratica craftate 10 e dobbiamo inviare a un altro tizio qua a skyfang che praticamente sarà la zona dove concluderemo se non ricordo male il tutorial e quindi la creazione del carretto ma il bello diciamo che deve ancora venire ok eccoci arrivati skyfang consegniamo la questa e ce ne viene data un'altra raccoglie una strong well quindi praticamente dobbiamo raccogliere dobbiamo craftarla scusate una strong well direttamente dal machining che cos'è il machining il machining è tutto quello che ha a che fare con macchinari quindi e ruote motori abbiamo craftato la ruota che andiamo consegnargli e sarà una parte fondamentale per la creazione del carretto perfetto andiamo a consegnarla quindi ora conosciamo le basi ora andremo a costruire il nostro vero carretto quindi in pratica accettiamo l'altra quest sempre quella verde la le viola sono quest giornaliere siamo in un community center quindi sulle quest giornaliere ora dobbiamo inviare la ruota forte diciamo quella alla strong well a perino ruin dove perino ruin che è qui questa è una zona che inizia diventare un pochino ostica per il mio livello perlomeno perché siamo dal livello 44 45 stando sulla strada generalmente si evitano la maggior parte dei problemi però non è detto perché ci sono volte mob anche sulla strada quindi io adesso mi rimetto in marcia vado la e qua nella zona di perino ruin andremo a fare il carretto usando la la ruota allora vi dico già nelle zone andando avanti queste sono tutte zone a salire di livello ad esempio as la as la sarà la zona in cui si farà il carretto di fascia più avanzata io per quello vi direi tassativamente almeno livello 50 il carretto iniziale vi consentirà già di fare i primi guadagni quindi i soldi investendoci magari il vostro il campetto che avete fatto con i video precedenti potrete iniziare a coltivare quello che vi serve per guadagnare due soldi e soprattutto magari craftare anche coltivare le merci adatte a la produzione dei pack che userete poi col carretto per trasportarle e guadagnare soldi quindi qui è una dei uno dei metodi più noiosi ma forse anche più ereditizi quindi ora concludiamo la strada qui arriviamo per in all ruin per in all ruin e andiamo a finire questa serie di quest ok siamo entrati in questa zona abbastanza ostica abbastanza intricata è una giungla con diversi animali malati all'inizio questa sarà la zona in cui concluderemo la nostra quest del carretto ma il bello deve ancora venire nel senso che non è tutto così concluso perché questa è la quest finale ci darà come premio il il progetto del carretto dobbiamo inviare queste due bundle questi vedete li dobbiamo portare poco più avanti di là la in cima allora noi lo facciamo anche se in realtà gioco vorrebbe che lo facessimo col carretto lo possiamo fare tranquillamente adesso con l'asino ve ne farò vedere uno però in realtà il gioco lo fa per farci sfruttare il nostro nuovo mezzo il problema è che qua non è spiegato benissimo o magari ai più potrebbe bloccare il fatto è che il carretto lo dovete fare craftandovi i materiali i materiali non sono assolutamente economici infatti adesso appena finiremo di consegnare questo che adesso una volta arrivati qui depositeremo qui in questi contenitori in questi contenitori li troverete poi sul carretto li troverete sulle navi le navi del trasporto vedete ne abbiamo consegnato uno su due dovremmo tornare indietro e fare l'altro ma al momento se noi andiamo premendo o su farm carta perché l'obiettivo della missione è summon a farm cart farm cart e basta senza cliccare su nulla ci esce basic farm cart vedete noi abbiamo il progetto ma non abbiamo nient'altro dobbiamo farci tutto dobbiamo farci le ruote dobbiamo farci il cart engine e il cart shaft cioè il cambio il motore e le ruote è qua casca l'asino nel senso che il gioco non ve lo dice ma in questo caso dovete cartarvelo voi e crearvi tutti i componenti quindi per cartare il tutto vi servirà il tavolo da carpentiere infrastrutture qua e poi cercate carpentry workbench vedete che lampeggia zona qui quindi sappiamo che è lì quindi là dove dovevamo diciamo consegnare ora andiamo a vedere che cosa ci manca per il crafting così che poi vi metterò tutto quello che vi serve quindi vi prenderete quell'elenco è tutto piuttosto veloce vedete come ricrea riclicco su farm cart vedete clicchiamo adesso su cart engine craftiamo anche il cart engine questo è un pochino più lungo da fare tutto questo ci sta facendo salire la proficiency poi torniamo indietro e ci manca solo il cart shaft che craftiamo ora ora abbiamo fatto tutto vedete che il farm cart l'abbiamo completo mille labor vi ricordo quindi costa tantissimo fare il un quinto dei labor che avete come punteggio massimo ne fate circa 2800 al giorno a restando fermi senza fare nulla la rigenerazione giornaliera di 2800 però non lo caprate tutti i giorni insomma farm cart e questo punto abbiamo fatto un livello solo fare questo abbiamo fatto un botto di 26 per cento un quarto di livello ok e ora abbiamo il farm cart quindi il farm cart lo troverete nello zaino vedete vedete qui clic col destro e andiamo ad aprirlo eccolo qua il farm cart ha due spazi ora io lo tolgo diciamo lo tiro qua nella barra veloce lo chiudo e vi faccio vedere effettivamente come funziona ora la quest è finita il carretto lo abbiamo quindi completato e completato poi la quest successiva da fare tra un po' sarà quella di aumentare il carretto di un grado e quindi portarlo da due a quattro spazi ora intanto ho preso questo quello che dovrete fare una volta che avete il carretto per le vostre trade sarà quello di caricare o tenerlo sulle spalle quindi uno sulle spalle due dietro oppure caricate direttamente qui salite a bordo e andate il carretto non è velocissimo ma sicuramente più veloce di quello che camminate a piedi quindi avrete in seguito le quest che abbiamo fatto in precedenza questo eco fuel l'eco fuel funziona che se voi premete questo tasto qui voi potete suonare la tromba o questo vi porta per circa 7 minuti 8 minuti a una velocità del 30% più alta stiamo facendo intanto ci stanno anche rompendo le pelotas perché ci ha targettato un mostro quindi probabilmente ci lasceremo magari anche le penne comunque adesso cerchiamo di staccarcelo da dietro e poi consegniamo qui c'è un tavolo dove si può craftare roba quindi ok dovrebbe essere se n'è andato dovete fare attenzione ai mostri soprattutto se fate come sto facendo io questa missione è ad un livello un pochino più basso di quello che dovreste essere ora il carretto non lo potete disevocare perché ovviamente c'è un pack a bordo quindi premete il tasto di dismount clic destro sullo slot vi caricate sulle spalle il pacchetto e andate a consegnare e andate a consegnare la quest quindi a questo punto è finito è finito ora le quest qua vanno avanti e ci porteranno lontano questa quest addirittura ci da 10 gold e bisogna andare bisogna andare local business di là in pratica bisogna andare qui nel villaggio avanti ci pagherà 10 gold ci fa portare del ginseng a un tizio le quest qua continuano e si andrà praticamente verso l'evoluzione del carretto ma questo sarà argomento di un altro video adesso io vi metto qua in sovraimpressione i materiali da prendere i materiali da prendere che così almeno avete sott'occhio quello che vi serve beh in sintesi in sintesi quello che serve per fare il kart il progetto 40 lamber 40 ingot due fine lamber 10 silver ingot un arceum ingot e per finire un thunderstruck log e un stadi ingot piccola nota una cosa molto importante potete trasformare il vostro carretto in un farm cart croma questo io vi consiglio di farlo subito al tavolo del carpentiere perché cosa succede quando voi andate a fare il carretto avanzato il carretto avanzato si chiama farm wagon e in pratica vi fa evolvere il vostro carretto che però deve essere un croma cosa succede c'è il rischio di sbagliarsi ve lo spiegherò nel prossimo gameplay nel prossimo tutorial gameplay però io vi consiglio di far subito il cambio farm cart wagon scusate farm cart croma lo fate immediatamente non cambia niente avete sempre il vostro carretto però evitate per la volta prossima di fare lo sbaglio perché se non ve ne accorgete vi mettete a fare quello che avete fatto appena adesso e cioè acquistare tutti i materiali invece l'evoluzione di per l'evoluzione del carretto vi verranno forniti i materiali necessari comunque i più costosi tipo il thunderstruck il motore ve lo daranno già e anche le ruote avete già tutto avete il carretto base se non ve ne accorgete e non fate questo farm wagon vi metterete a riacquistare tutto forti di quello che vi ho detto in questo gameplay quindi fate anche quest'ultimo passaggio che è importantissimo detto questo io vi saluto è stata una quest piuttosto lunga piuttosto costosa perché è costato parecchi gold fatemi sapere cosa ne pensate e alla prossima e ciao ciao